Federico Zurlo, gran lavoro dell'Ormelle per chiudere sulla fuga ma poi è stata la tua volata a decidere questa corsa ma è stata una giornata molto lunga e molto sofferta, nelle lunghe distanze vengo sempre fuori e qua devo ringraziare i miei compagni perché sono stati loro a chiudermi l'ultimo buco e poi niente, la volata dopo 125 km non è la volata di gruppo solita e si è anche visto un po' e sono contento così stacco un po' e penso al mondiale e intanto ci godiamo questa vittoria Cristiano Citon, DS del Postume 73, che soddisfazione questa vittoria? Fino agli ultimi 4 km eravamo quasi rassegnati perché col gruppo davanti di Ferraro sapevamo che avevamo delle carte da giocare ma era molto difficile con le ruote veloci che erano davanti l'Ormelle ha fatto un ottimo lavoro, infatti ringrazio anche loro, a volte si deve anche rintunzare il lavoro degli altri per cercare di ottenere il massimo risultato e oggi è stato così un Federico Zullo straordinario, dove può arrivare questo ragazzo? Io mi auguro molto in alto la promessa era che se vinceva oggi domani arrivavamo in alto fino agli scivoli dell'Aqualandia quindi andremo in piscina domani e arriverà un finale Grazie a tutti